...e lo selvio coperto di neve. A proposito di neve, vediamo che tempo ci attende oggi, allora andiamo subito a collegarci con il nostro previsore dell'ARPA che stamattina è Matteo Zanetti. Buongiorno. Grazie, un cordiale buongiorno da ARPA Lombardia. Oltre al cielo sereno in questo momento è il Fön, a essere protagonista questo vento mite asciutto che soffia dalle montagne e che porta temperature fino a 13-15 gradi sulla regione dei laghi. Con la grafica possiamo anche vedere invece l'altra faccia della medaglia, questa mattina per esempio la nebbia sulla pianura sudorientale tra Bresciano e Mantovano con temperature vicine allo zero. A tra poco per tutte le previsioni della giornata. A più tardi, adesso andiamo in diretta all'aeroporto di Orio al serio perché in vista del Capodanno vogliamo capire come vanno arrivi e partenze in questa fine 2016 che insomma è segnata ancora un po' dalla crisi, dalla paura per gli attentati e all'aeroporto di Orio al serio che oltretutto oggi...